Siamo in attesa di sapere cosa deciderà realmente il Consiglio dei Ministri che doveva essere alle 10 di questa mattina ma che è iniziato con quasi un'ora di ritardo. In discrezioni ce ne sono, ce ne sono tante, anche il Sole24ore oggi ha fatto uno speciale proprio su quelle che saranno le misure che dovrebbero essere adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sappiamo che saranno allocate risorse per 25 miliardi di euro, tante ma sicuramente insufficienti. Sappiamo anche che il Ministro dell'Economia Gualtieri ha dichiarato che servono 350 miliardi di euro e lui li troverà. Con che Italia parliamone in questo momento di difficoltà per il Paese cercheremo di dare istruzioni per l'uso e in collaborazione con la rivista specialistica, con il quotidiano online Finanziamenti News cercheremo di fare chiarezza per poter aiutare l'impresa e l'economia italiana a ripartire. Vi aggiorneremo prestissimo.